All'ospedale dell'Aquila c'è una leggera tendenza alla ripresa dei ricoveri anche sul territorio aquilano. A dirlo è il primario di malattie infettive Alessandro Grimaldi, molto preoccupato soprattutto per la variante inglese, che è molto più contagiosa e soprattutto tocca a categorie che prima sembravano fuori dal discorso del Covid, come i bambini e i più giovani, con il rischio di sviluppare la malattia anche con sintomi importanti. E proprio legate ai ragazzi e agli studenti ci sarebbero comunque oltre 100 sorveglianze in città, anche di più probabilmente. di alunni, nonostante la chiusura delle scuole disposta dall'ordinanza regionale. A Pizzoli ci sono una quarantina di casi positivi e molte sorveglianze tra la popolazione. Oggi per questo al Palazzetto dello Sport del Popoloso Comune c'è stato lo screening con tampone molecolare destinato alla popolazione scolastica e il sindaco Gianni Anastasio aveva già chiuso, per precauzione nei giorni scorsi, la primaria della frazione di Cavallari. L'infanzia può restare aperta, come è noto, ma il sindaco di Cagnana Miterno, Iside Di Martino, ha chiuso quella di Fossatillo, per ora, a causa della positività del personale della mensa. Una decisione presa per seguire meglio gli sviluppi e sanificare gli ambienti. Ha scoppito, come conferma il sindaco Marco Giusti, ci sono sette studenti positivi all'istituto Comenio, con tre classi in quarantena, due della primaria e una dell'infanzia. All'istituto Rodari due o tre classi in quarantena, tra chi esce dalla quarantena e chi vi entra in diversi plessi a caso della positività di qualche alunno, ma il numero sarebbe comunque molto contenuto. Insomma, non ci sarebbero neanche tanti positivi, ma molte sorveglianze e la precauzione e l'attenzione sono massime, soprattutto per la diffusione delle varianti.